Monsignor Pennacchio, 11 febbraio, giornata mondiale del malato, una giornata importante anche per l'Unitalsi. E allora il suo saluto a questa associazione che la accoglie con tanta gioia? Il mio saluto è quello di essere degni, sempre di più degni della storia di questa associazione, che quest'anno compie 120 anni. Essere degni significa cogliere sempre il senso del servizio alle persone ammalate, un servizio che in modo particolare si svolge attraverso i pellegrinaggi, ma che è segno il pellegrinaggio di una prossimità che dura tutto l'anno. Questo è l'augurio che vorrei fare a tutti i soci ammalati e volontari. Come ha accolto questo incarico? L'ho accolto con un po' di trepidazione e con disponibilità. La disponibilità perché è un incarico ecclesiale. L'Unitalsi è una delle poche associazioni nazionali che vengono riconosciute dall'autorità ecclesiastica, che quindi le affida un assistente, di solito vescovo. Quando la Chiesa chiama bisogna sempre dire di sì. Trepidazione perché sia perché è un incarico che si aggiunge agli altri e quindi ho sempre il timore di dover sacrificare qualcosa o qualcuno. Trepidazione perché è un mondo che conosco ma non nel profondo e quindi nel quale devo entrare in punta di piedi lasciandomi plasmare e cercando di aiutarlo ad essere quello che lo Statuto chiama ad essere l'Unitalsi. Chi è il malato? Il malato è per noi cristiani il volto di Cristo, il quale si è identificato con le persone più fragili, più deboli e il malato entra nel discorso finale di Matteo tra quelli nei quali il Signore si identifica. Il malato per la società è a volte un ingombro e per altri invece una persona da onorare. L'Unitalsi rientra in questa seconda categoria. L'esperienza del pellegrinaggio è un qualcosa di profondamente diverso da il viaggio verso un luogo. È un'esperienza di vita che cambia gli altri e cambia se stessi. In questo senso qual è il suo invito a chi sta pensando di vivere questa esperienza? Di superare gli indugi qualora ci fossero e di aderire a questa esperienza. Anche se ci si sente inesperti, anche se ci si sente indegni a volte. Il pellegrinaggio all'Urd e agli altri santuari mariani è sempre qualcosa che dice la nostra identità di popolo in cammino. Un pellegrinaggio che si fa insieme e quindi dice anche l'identità di una Chiesa. È un'esperienza spirituale nella quale la Madonna, che è la madre della Chiesa, ci rende più uomini e più cristiani. Ed è un'esperienza che ci mette sempre a contatto, non solo con gli ammalati, ma anche con gli altri volontari, quindi di sempre di grande fraternità. Ci sono solo aspetti positivi. E allora il suo messaggio agli ammalati, ai volontari, ai pellegrini unitati? Agli ammalati vorrei dire di non scoraggiarsi nei momenti in cui la malattia fa soffrire un po' di più. Ai volontari di essere prossimi alle persone che accompagnano durante il pellegrinaggio anche negli altri periodi dell'anno. Di non ridurre l'esperienza dell'Unitalsi solo al pellegrinaggio. E a tutti coloro che gravitano intorno all'Unitalsi di essere promotori di riconciliazione, di non esasperare mai le tensioni, di trovare sempre una composizione. Unitalsi purtroppo nella sua storia recente ha avuto anche qualche difficoltà, diciamo così, relazionale. Noi speriamo che tutto si risolva a maggior gloria di Dio e per il bene delle persone ammalate.